Si chiama un remo in più dalla tua parte, l'ambizioso progetto di psicologia dello sport proposto dal Circolo Canottieri Barion di Bari. A curare il ciclo di incontri sarà Stefania De Bartolo, professionista del settore ed ex canottiera. Tema del primo appuntamento, il rapporto fra genitori e giovani atleti. Questo ciclo di appuntamenti è appunto espressione di questa rinnovata attenzione che il Circolo Canottieri Barion ripone nei suoi atleti. È appunto un'attenzione a 360 gradi a tutte le componenti che riguardano la vita sportiva di questi ragazzi e che quindi pone un accento particolare anche sulla componente psicologica. Quindi sicuramente è voluto a rendere più piacevole la prestazione sportiva e le fasi anche di allenamento di questi atleti e anche di coinvolgere tutte quelle che sono le figure intorno a questi atleti, a questi ragazzi. Prima di fra tutti appunto i genitori, che appunto sono l'argomento del nostro primo incontro. Numerose le aree di intervento previste nei prossimi appuntamenti, dalla leadership dell'allenatore alla motivazione, passando per l'importanza della coesione di gruppo. Un'offerta sempre più composita dunque quella proposta dal Circolo Canottieri Barion, sempre attento alle esigenze dei propri atleti. Esistono due tipologie di allenamento, diciamo. Esiste un allenamento, come dice il dottor Lamura, il direttore tecnico della nostra federazione, volto agli atleti dagli occhi in basso. Esiste anche un altro tipo di allenamento che è volto all'atleta dagli occhi in su. Grazie a tutti.